Il campionato regionale di Serie C2, il Girone C, Buena Honda e Real Fondi si affrontano per questo secondo turno della stagione 2019-2020. Ancora viene avanti con Rosina, molta la progressione sulla sinistra, trova soltanto l'esterno della rete. E' il pallone verso Manciocchi che prova anche la conclusione. Baribirato con cavola, pallone ribattuto da Cepa, la va a recuperare. Poi il fraseggio in mezzo di Violetto verso Manciocchi e arriva il gol che sblocca il match. Cepa con passannante che spedisce praticamente però alle stelle. Busti, Baribirato, sale la pressione di Bolla che tra l'altro non lo fa neanche passare, la mettere fuori. Violetto, Busti, Baribirato raccoglie con il mancino, viene avanti, una serie di fintesi, a centra! Il gol di Baribirato per il raddoppio della Buena Onda. Ancora Peppe, ma verso il centro la risposta di Busti. Il tiro non trattenuto, il tiro di Infanti non trattenuto. Busti lancia verso Manciocchi, prova anche adesso ancora Manciocchi con il diagonale. C'è il fischio, il tiro di Bolla, la risposta di Busti. Busti, Curcio, la possibilità, la spaccata, l'apertura, a compasso se ne va via in maniera elegante. Ancora non tiene a insistere. Pignatello, la palla messa in mezzo, la scivolata con la correzione a rete di Pacchiarotti. Il gol di Pacchiarotti a questo punto. Sono quattro le reti per la formazione di casa. Ancora il tiro con la deviazione di Infanti. Passa a Nante. Prova la conclusione. Busti in due tempi, lo corregge per Diana. Prova la conclusione, Manciocchi il tiro, poi il palo da parte di Violetto. Recupera Realfondi, pronta a ripartire, ha uno spazio. Rallo, il tiro di Rallo ed è 5 a 1, fa poker. Si fa vedere, invece, tiro di Passanante. Busti, Rallo, riparte, una buona onda. C'è il tocco di un giocatore e poi il tiro di Violetto per il gol. Tranquillizzare un po' il gioco. Poi il tiro sulla sua conclusione. che salva la rete, ancora Barberato esce, proteso contro Infanti. Poi c'è Peppe per Bulla, la mette in mezzo. Poi il tiro di Passanante. All'indietro, Infanti. Corregge per Pignatiello. E Napolitano che alza sopra la traversa. Passanante in Infanti contro Napolitano. Va a lottare, bravo Napolitano. A non capitolare in questa circostanza. Poi Bulla, possibilità, invece. C'è Paolsi. Prova Passanante. La risposta di Busti. Bulla. C'è Paolsi in mezzo, va a penetrare, va anche a calciare. Ma c'è Busti che si oppone. Ancora la buona onda con Manciocchi che sbaglia una facile occasione. Infanti. Arriva il gol in diagonale di Barbierato. Sta per ricevere il pallone da Barbierato. Interviene invece il Real Fondi con Peppi. Che mette in fondo alla rete. Non c'è più tempo. L'arbitro dice che può abbassare per questa contesa. Il Buena Onda finisce vincendo questa partita contro il Real Fondi. Con il risultato largo, questa volta di 7 a 1. Ancora una goleata, questa volta più consistente nella seconda giornata di campionato per gli uomini di Stredini. L'arbitro dice che v pacingi solo. L'arbitro dice che si pensa 않은. Laombia внутри. Grazie a tutti.